Saluto, e buon venito alla mia nuova Zamenhof ha medito, mi è stato in mia laborciambra e all'università, e mi volo leggere con voi, e mi vedo con voi su il tiro e la trattaggio senza quest'ontezzo, già ora 1900, e temo per la memoria della nepoi. Scriba Zamenhof in la seczio oc, pagio 30 dec, a rande della fine della pagio, la secvan, pensaron. La iniziatoro e della esperanta ferro, eble, negis vivos, gistiu tempo, chiam farigios videblai, la fructo e dei li agado. Ili iros eble in la tombon, con la malestima nomo di homoi, che occupati sinie infanagioi, sed più o meno più veloce, per la maldolce calico, che li trinca in le mani della San Tempolo, la posteuloi, la posteuloi, construos al Ili monumentoin, cae el parolados Iliam nomon, con la pleigranda danko. Longo ancora eble Ili scienos alla mondo sen fortai. Multain foioin, eble ancora Iliam ferro, scienos alla mondo, ecch mortinta, cae Ieciam interigita. Sed, ti uccia ferro, Iliam neniam mortos, car gi morti Iliam neniam povas. Cion vi pensas, privimem, ciel esperanto parolantoi en la dutek unua ircento? Ni estas, certe, parto della posteuloi, preciui parolas Zamenhof citie. Sed, ni devas concedi la factum, che neniu construis monumentoin honore al ni, avvio simile, parto zemenhof mem, sed, ne al ni, certe, avvio, ni ne construis por la pioniero, idò. Tio neocasis. Ciulau vi, tio espero, che Iam, Estos, grande, recono pubblica, pri la gravezzo della ferro esperanto. Estos gravalvi, citiu recono. Ciar, tio pensigas al mi, mi reprenas momenton la texton. Do, la ferro neniam morto, signifas che gi neniam attingos la zelon. Do, cione, doc'io pli gravas, attinghi la zelon, au, promeni sur la vojo, por vivi tum la disvolvigio della ferro. Ien, ocaso, per cui me diti, ca et io, comprenemble, ne rilatas nur al esperanto, sed, al multai aferoi preciui ni volas el spesi in ian tempon energion cai coron. Do, mi corredancas vim pro latento, mi bon desira salvi felician semain finon, cai ciel ciam, antauen, sen fine. muzyka muzyka Grazie a tutti.